La Regione Puglia è matrigna, non madre nei confronti di Taranto e Michele Emiliano è patrigno, non padre nei confronti di Taranto. Vengo al dunque, l'ordine delle ostetriche e degli infermieri di Taranto ha denunciato le pesanti carenze di personale e ha stigmatizzato, ha denunciato l'assoluta indifferenza, il menefreghismo della Regione Puglia, del Presidente Emiliano, dell'assessore regionale alla sanità palese. Come si può lavorare a Taranto, in una città bistrattata, in una città che vive il dramma ambientale, il dramma sanitario, con una pianta organica ridotta all'osso, assolutamente insufficiente, estremamente misera numericamente, non certo professionalmente ci mancherebbe altro, per quanto riguarda il settore dell'ostetricia e del settore infermieristico. Un plauso agli infermieri, agli ostetrici che fanno miracoli, che si sacrificano, che sono dei veri eroi in corsia, che rinunciano alle ferie, perché abbiamo una Regione Puglia incapace, una Regione Puglia che non solo non implementa, non arricchisce la pianta organica, ma non si vede luce all'orizzonte, perché non vi sono neanche graduatorie concorsuali, neppure a tempo determinato. Come si fa? Quali servizi si possono dare al territorio? Eppure le ASL hanno espresso il fabbisogno della pianta organica, ma da parte di Emiliano, da parte della Regione Puglia, da parte dell'assessore alla sanità palese, nulla. Taranto doveva essere, tra virgolette, privilegiata rispetto ad altre città. E quel Michele Emiliano che dice di amare Taranto, evidentemente non vuole il bene di Taranto. se ci lascia in queste condizioni. Non è un fatto politico, è un fatto di verità, perché io mi metto nei panni dei pazienti, mi metto nei panni dei ricoverati, mi metto nei panni degli operatori sanitari, che si vedono costretti a turni impressionanti, a turni che calpestano i diritti dei lavoratori. Questo è Michele Emiliano. Per questo ho fermato il suo cammino, non mettendo quella firma, affinché non potesse mettere politicamente le mani su Taranto. Io l'ho fatto con i fatti. Altri invece attaccano Michele Emiliano solo a parole. Il tempo è galantuomo, cari cittadini. Questo è Michele Emiliano. Ho detto no a quello che diceva di fare Michele Emiliano. Dovevo mettere una firma. Avrei dovuto mandare a casa questa amministrazione. Il mio obiettivo non era salvare questa amministrazione o mandare a casa Melucci. Il mio obiettivo è il bene di Taranto e quando ho visto che Emiliano voleva fare il padre padrone su Taranto, ho detto no. No e no. Sono un uomo libero di firmare o di non firmare. La sfiducia al sindaco. Bene. Ospedale Santissima Annunziata. Sono proprio qui davanti. Cari pazienti, penso che non potrete affatto ringraziare Michele Emiliano. E neppure voi, operatori sanitari. Sento che più di qualcuno incomincia a darmi ragione e dice ma chissà, quel fesso tra virgolette di Luigi Abbate aveva ragione, ha avuto coraggio. Lo ripeto, tempo passerà. Ma vedrete, la verità che vi sto dicendo, ogni giorno esce sempre più a galla. Meditate cittadini, meditate. Grazie a tutti.